Ciao, si gira! Sì, si gira Torpignattara! Vero! Il 16 luglio 1924 nasce ufficialmente il quartiere di Torpignattara, che prima era solo un agglomerato di costruzioni abusive, popolari dovute all'iniziativa di braccianti o di sfrattati. Il nome deriva dalle affore di terracotta, dette pignatte. Nel 1916 era stata costruita la prima linea tramvaria, che collega il quartiere alla stazione Termini. Nel 1931 gli esidenti sono 30.743, con un aumento del 282%. Si costruiscono fogne, tre complessi di edilizia popolare, e nel 1938 è inaugurata la nostra scuola. Il quartiere diventa la meta di famiglie migranti provenienti dal centro e dal sud Italia, e i privati, uniti in piccole imprese, costruiscono caratteristiche case di due o tre piani, aiutandosi l'un l'altro con la solidarietà che solo le genti povere conoscono, dando vita così ad un processo di integrazione che continua ancora oggi. Durante la Seconda Guerra Mondiale ci furono diversi bombardamenti che misero in ginocchio il quartiere, ma la sua posizione strategica lo pone al centro della lotta di liberazione della città di Roma. Negli anni 60-70 il quartiere ebbe una fioritura di palazzi, le strade furono asfaltate e Villa de Sanctis divenne un parco. Oggi è un quartiere multietnico, con genti che provengono dal sud del mondo, che vengono qui a cercare, come cento anni fa le genti del sud Italia, lavoro e una vita di un'unità. Nasco nel 2008 in Sicilia, a Trapani, dove abitavano mia madre e mio padre. La mia famiglia ha fatto tanti viaggi, siamo stati alcuni anni a Trapani, dove è nata la mia sorellina, mentre papà è rimasto in Italia per lavoro. Quando siamo ritornati in Italia, anche con mia sorella, mio padre ha deciso di trasferirsi in Germania, lì un anno. Ma mio padre non si trovava bene al lavoro e ha deciso di rimandarci in Bangladesh. Mentre lui è ritornato in Italia, precisamente a Roma, per cercare un altro lavoro. Prima ha fatto l'appulante, oggi ha un'edicola. Noi siamo ritornati a Roma nel 2017. Nel 2018 è nata un'altra mia soviglia con la sorella e penso che rimaneremo qui. Nel 2018 è nata un'edicola. ciao 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 ciao